Ciao a tutti, oggi volevo provare un esperimento, cioè quello di ascoltare un singolo, una canzone che mi interessa per la prima volta, dandovi le impressioni in tempo reale. Giuro, giuro che non ho ascoltato una nota di questa canzone. La canzone in questione è dei Bon Jovi e si chiama This House Is Not For Sale, sarebbe il nuovo singolo di un album che non so quando uscirà, credo ottobre? In genere se i singoli escono adesso penso ottobre-novembre, ma non so nulla. Prima che... Ok. Che video moderno! Quanto è vecchio! Che strano non sentire cantare Sambora! Sembra un'immagine... Mamma mia, quante... E i ritornati dei Bon Jovi sono... Lui canta nella strofa con una voce... Mi stupisco di quante voce abbia da disco rispetto a quanto è dal vivo, comunque... No, che brutta questa cosa, questa cosa... No, che... E poi partano questi ritornelli con 1500 voci compresse! Il video è bellissimo! Mamma mia, come riconosco io, Bon Jovi! Non se ci voglia tanto, lo vedi? Prevedibilissimi! Allora, il ritornello è in... Chi è questo tipo qua che... Il ritornello, secondo me, è inascoltabile La canzone non è male Questo somiglia a qualcosa... Forse somiglia a qualcosa del... Dell'album precedente Del brutto album precedente No, no, sì, del singolo precedente Aspetta, John Bon Jovi con i capelli bianchi Tempo passa Solo Molto samboriano Sì, molto Bello Anche i suoni devono dire che i suoni mi ricordano Questo è... Have a nice day Insomma Perché tutti sti cori? Orecchiabile Questi cori mi fanno proprio schifo Troppi, troppi... Bon Jovi Sono rock i Bon Jovi La canzone togliendo questo cori non è male Scusate, già riesco a parlare Già che le mie proprietà di linguaggio non sono proprio fantastiche normalmente Poi cantando mentre ascolto prima o prima volta una canzone Mi riesce difficilissimo Quindi non so cosa ho detto Probabilmente dico più cacchiate del solito Ma... Ok Video terminato Impressioni, vabbè, ve le ho dette Canzone orecchiabile Che comunque è premedibile da parte di Bon Jovi Il ritornello secondo me è inascoltabile Causa 12.000 cori Ehm... Quindi se non fosse... Orecchiabile, orecchiabile Togliendo... Togliendo quei cori nel ritornello magari sarebbe stata carina Non mi piace Non mi piace Vabbè, non mi aspetto molto dopo... Insomma Gli ultimi album dei Bon Jovi non sono proprio il massimo Mi sembra... Questo singolo sembra proprio su quella scia Quindi... Vabbè Volevo provare intanto questo esperimento Fatemi sapere se nei commenti avete apprezzato o meno Intanto... Stacco Devo dire qualche altra cosa No, perché era un primo ascolto Quindi tutto quello che dovevo dirvi di getto Ve l'ho detto Altro non so Ciao Alla prossima Giuseppe 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 Giuseppe